Le votazioni non servono un cazzo, sapete perché? Loro hanno bisogno di essere legittimati, punto. Il tuo voto non sanno cosa farsene. Ancora credete alle favole? Cosa hanno fatto? Si sono mossi, si sono mobilitati per fermare Israele. No! No! E loro dovrebbero rappresentare voi. E poi, volendo, facciamo finta che, che cazzo ha voti? Conte, che ci ha chiusi come topi, le zone Ciclamino, Draghi, c'è altri vaccini, muori, Lameloni, Renzi, quel pagliaccio che ha detto se perdo le votazioni esco dalla politica, li ha persi ancora lì. Le votazioni non servono a nulla, ma un'astenzione totale. potrebbe fare la differenza. Ecco perché hanno paura. L'hanno scelta le votazioni sabato e domenica perché l'agente sta a casa e può andare a votare. Ancora crede alle favole? La gente vuole essere presa per il culo. Un'astenzione potrebbe innescare il 10%, ma il 10% non può governare e potrebbe esserci un probabile referendum. Ancora credete ai bugiardi? Loro hanno questo compito di eseguire, punto. Tecnocrati, oligarchici. Loro hanno il potere. Fai così. Sì, padrone. E il popolo subisce. Astenzione totale. Perché non c'è nessuno che ci dà fiducia. Almeno a me. A voi. Vi fidate? Vi bugiardi? E ora sono tutti lì. Vota me, vota me. Proviamo questo programma. Tutte le volte.